Ogni altro uomo che non fosse stato un malese si sarebbe senza dubbio rotte le gambe in quel salto, ma non così accadde a Sandokan, che oltre ad essere solido come l'acciaio, possedeva un'agilità da quadrumane. Aveva appena toccato terra, sprofondando in mezzo ad una iuola, che era di già in piedi col crisi in pugno pronto a difendersi. Il portoghese fortunatamente era lì. Gli saltò addosso e afferratolo per le spalle lo spinse bruscamente verso un gruppo d'alberi dicendogli «Ma fuggi, disgraziato, vuoi farti fucilare? Lasciami Janez», disse il pirata, che era in preda ad una viva esaltazione. «Assaltiamo la villa». Tre o quattro soldati apparvero allora ad una finestra, prendendoli di mira coi fucili. «Salvati Sandokan», si udì a gridare Marianne. Il pirata fece un salto di dieci passi, salutato da una scarica di fucili e una palla li attraversò il turbante. Si voltò ruggendo come a una fiera e scaricò la sua carabina contro una finestra frantumando i vetri e colpendo in fronte un soldato. «Vieni», gridò Janez, trascinandolo verso la palizzata. «Vieni, testardo impudente!». La porta della palazzina era sì aperta e dieci soldati seguiti da altrettanti indigeni armati di torce si slanciarono all'aperto. Il portoghese fece fuoco attraverso il fogliame. Il sergente, che comandava la piccola squadra, cadde. «Giuoca di gambe, fratellino mio», disse Janez mentre i soldati si erano fermati attorno al loro capo. «Non so decidermi a lasciarla sola», disse Sandokan a cui la passione sconvolgeva il cervello. «Ti ha detto di fuggire! Vieni o ti ci porto io!». Due soldati comparvero a soli trenta passi e dietro a loro un drappello numeroso. I due pirati non esitarono più, si cacciarono in mezzo ai cespugli e alle euole e si misero a correre verso la cinta salutati da alcuni colpi di fucile sparati a casaccio. «Fila dritto, fratellino mio», disse il portoghese che caricava la carabina, sempre però correndo. «Domani restituiremo a quei messeri le fucilate che ci hanno sparato dietro». «Temo di aver rovinato tutto, Janez», disse il pirata con voce triste. «E perché, amico mio? Ora che sanno che io sono qui, non si lasceranno più sorprendere». «No, non dico di no, ma se i prao sono giunti avremo cento tigri da lanciare all'assalto. Chi resisterà a una simile carica? Ho paura del lord. E che cosa vuoi che faccia? È un uomo capace di ammazzare sua nipote, piuttosto di lasciarla cadere nelle mie mani». «Diavolo», esclamò Janez grattandosi furiosamente la fronte. «Non avevo pensato a questo». Stava per fermarsi, onde riprendere Elena e trovare una soluzione a quel problema, quando in mezzo alla profonda oscurità vide correre dei riflessi rossastri. «Gli inglesi», esclamò. «Hanno trovate le nostre tracce e ci inseguono attraverso il parco. Via, via di trotto, Sandokan!». Tutti e due partirono correndo, inoltrandosi sempre più nel parco, onde giungerà la cinta. Di passo in passo però, che si allontanavano, la marcia diventava sempre più difficile. Dappertutto alberi grandissimi, lisci gli uni e dritti, inodosi contorti gli altri, sercevano senza lasciare quasi passaggi. Essendo però uomini che sapevano orizzontarsi anche per istinto, erano certi di giungere in breve alla cinta. Infatti, attraversata la parte boscosa del parco, si ritrovarono sui terreni coltivati. Passarono senza arrestarsi dinanzi al chiosco cinese, essendo tornati indietro per non smarrirsi fra quelle gigantesche piante, si cacciarono nuovamente in mezzo alle aiguole e, correndo attraverso i fiori, giunsero finalmente presso la cinta, senza essere stati scoperti dai soldati che perlustravano già tutto il parco. Adagio, Sandokan, disse Yanez trattenendo il compagno, il quale stava per slanciarsi verso la palizzata. Gli spari possono aver attirato i soldati che abbiamo veduti partire dopo il tramonto, che sarebbero già entrati nel parco. Taci, accovacciati qui vicino, ascolta. Sandokan tese gli orecchi, ma non udì altro che lo stormire delle foglie. Hai veduto qualcuno? chiese al portoghese. Ho udito un ramo spezzarsi dietro la palizzata. E può essere stato qualche animale. Ah, e possono anche essere stati dei soldati. Vuoi che ti dica di più? Mi è sembrato di aver udito delle persone chiacchierare. Scommetterei il diamante del mio crisse contro una piastra che dietro a questa palizzata vi sono delle giacche rosse imboscate. Non ti ricordi del drappello che ha lasciato il parco? Sì, Yanez, però noi non ci fermeremo nel parco. Che cosa vuoi fare? Assicurarmi se la via è libera. Sandokan, diventato ora assai più prudente, si alzò senza far rumore e dopo aver lanciato un rapido sguardo sotto gli alberi del parco, si arrampicò con la leggerezza di un gatto sulla palizzata. Aveva appena raggiunta la cima quando udì dall'altra parte delle voci sommesse. Yanez non si era ingannato, mormorò. Si curvò innanzi e guardò sotto gli alberi che crescevano dall'altra parte della cinta. Quantunque l'oscurità fosse profonda, scorse vagamente delle ombre umane radunate presso il tronco di una colossale casuarina. Si affrettò a scendere e raggiunse Yanez, il quale non si era mosso. Tu avevi ragione, gli disse. Al di là della cinta, vi sono degli uomini in agguato. Sono molti? Mi parevano una mezza dozzina. Per giove. Che cosa fare, Yanez? Allontanarci subito e cercare altrove una via di scampo. Temo che sia troppo tardi. Oh, povera Marianna, forse ci crederà già persi. Forse uccisi. Sì, non pensiamo alla fanciulla per ora. Siamo noi che corriamo un grave pericolo. Va bene, andiamocene. Eh, taci Sandokan. Taci. Al di là della cima, odo parlare. Infatti si udivano delle voci, una rauca e l'altra imperiosa, che parlavano proprio presso la palizzata. Il vento che soffiava dalla foresta le portava distintamente agli orecchi dei due pirati. Ti dico, diceva la voce imperiosa, che i pirati sono entrati nel parco per tentare un colpo di mano sulla villa. Non credo, sergente Bell, rispose l'altra. Vuoi stupido che i nostri camerati sparino delle cartucce per divertimento? Ma tu c'hai un cervello vuoto, Willy. Allora non potranno sfuggirci. Eh, lo spero. Siamo in 36 e possiamo vegliare tutta la cinta e radunarci al primo segnale. Su, Lesti, distendetevi, aprite bene gli occhi. Forse qui abbiamo a che fare con la tigre della Malesia. Dopo quelle parole si udirono dei rami a spezzarsi e delle foglie a scrosciare. Poi più nulla. Quei bricconi sono cresciuti ben di numero, mormorò Janez curvandosi verso Sandoka. Noi stiamo per venire circondati, fratellino mio, e se non agiamo con somma prudenza cadremo nella rete che ci hanno tesa. Taci, disse allora la tigre della Malesia. Odo a parlare. La voce imperiosa aveva ripreso. Tu, Bob, rimarrai qui mentre io vado a imboscarmi dietro a quell'albero della camfora. Mi raccomando, tieni il fucile armato e gli occhi fissi sulla cinta. Non temete, sergente, rispose colui che era stato chiamato Bob. Credete che abbiamo proprio a che fare con la tigre della Malesia? Quell'audace pirata si è pazzamente innamorato della nipote di Lord Gillong. Un bocconcino destinato al baronetto Rosenthal e puoi immaginarti se quell'uomo rimarrà tranquillo. Io sono sicurissimo che questa notte ha tentato di rapirla, malgrado la sorveglianza dei nostri soldati. E come ha fatto a sbarcare senza che sia stato veduto dai nostri incrociatori? Avrà approfittato dell'uragano? Si dice anzi che dei praos siano stati veduti a veleggiare a largo della nostra isola. Oh, quale audacia! E ne vedremo ben altre. La tigre della Malesia ci darà da fare, te lo dico io, Bob. È l'uomo più audace che io abbia mai conosciuto. Ma questa volta non ci sfuggerà. Se si trova nel parco non uscirà così facilmente. Basta. Al tuo posto, Bob. Tre carabine ogni cento metri possono essere sufficienti ad arrestare la tigre della Malesia e i suoi compagni. Non scordarti che ci sono mille sterline da guadagnare se noi riusciamo a uccidere il pirata. Beh, una bella cifra in fede mia, disse Yanez sorridendo. Lord James ti valuta molto, fratellino mio. Ti aspettino di guadagnarle, rispose Sandokan, il quale si alzò e guardò verso il parco. In lontananza vide dei punti luminosi apparire e scomparire fra le aiuole. I soldati della villa avevano perdute le tracce dei fuggiaschi e cercavano a casaccio, aspettando probabilmente l'alba per intraprendere una vera battuta. Per ora non abbiamo nulla da temere da parte di quegli uomini, disse Sandokan. Vuoi che cerchiamo di fuggire da qualche altra parte? Il parco è vasto e forse tutta la cinta non è sorvegliata. No, amico. Se ci scorgono avremo alle spalle una quarantina di soldati e non potremo così facilmente sfuggire ai loro colpi. Ci conviene per il momento nasconderci dentro al parco. E dove? Vieni con me, Yanez, e ne vedrai di belle. Tu mi hai detto di non commettere pazzie e io voglio mostrarti quanto sarò prudente. Se mi uccidessero la mia fanciulla non sopravviverebbe alla mia morte e dunque non tentiamo un passo disperato. E non ci scopriranno i soldati? No, non lo credo. D'altronde noi non ci fermeremo molto qui, domani sera accada quello che si vuole, noi prenderemo il volo. Forza, vieni Yanez, ti condurrò io in un luogo sicuro. I due pirati si alzarono mettendosi le carabine sotto il braccio e si allontanarono dalla cinta tenendosi nascosti in mezzo a lei vuole. Sandokan fece attraversare al compagno una parte del parco e lo condusse in un piccolo fabbricato ad un solo piano che serviva da serra per i fiori e che sorgeva a circa 500 passi dalla palazzina di Lord Gillonk. Aprì senza far rumore la porta e si avanzò a tentoni. A dove andiamo? chiese Yanez. Accendi un pezzo d'esca, rispose Sandokan. E non scorgeranno la luce dal di fuori? No, non vi è pericolo, questo fabbricato è circondato da piante foltissime. Yanez obbedì. Quella stanza era piena di grandi vasi contenenti delle piante, esalanti acuti profumi, essendo ormai quasi tutte in fiore, ed ingombra di sedie e di tavolini di bambù d'estrema leggerezza. All'estremità opposta il portoghese vide una stufa di dimensioni gigantesche capace di contenere una mezza dozzina di persone. Ah, è qui che ci nasconderemo? chiese allora Sandokan. Il luogo non mi sembra poi tanto sicuro, i soldati non mancheranno di venire ad esplorarlo, specialmente con quel migliaio di sterline che Lord James ha promesso per la tua cattura. Non ti dico che non vengano, e allora ci prenderanno ad accio. Amico Yanez, che cosa vuoi dire? Che non verrà loro l'idea di andarci a trovare dentro una stufa. Yanez non seppe frenare uno scoppio di risa. In quella stufa esclamò? Sì, ci nasconderemo là dentro. Ma diventeremo più neri degli africani, fratellino mio. La fuligine non deve scarseggiare in quel monumentale calorifero. Beh, ci laveremo più tardi, Yanez. Sì, ma Sandokan, se non vuoi venire, spicciatela tu con gli inglesi. Non veda scegliere, Yanez, o nella stufa o farsi prendere. Non si può esitare sulla scelta, rispose allora Yanez. Andiamo intanto a visitare il nostro domicilio per vedere se almeno è comodo. Aprì lo sportello di ferro, accese un altro pezzo d'esca e si cacciò risolutamente nell'immensa stufa, star nutendo sonoramente. Sandokan l'aveva seguito senza esitare. Posto venera a sufficienza, ma vi era anche grande abbondanza di cenere e di fuligine. Il forno era così alto che i due pirati potevano mantenersi comodamente dritti. Il portoghese, a cui l'umore allegro non faceva mai difetto, si abbandonò ad una ilarità clamorosa nonostante la pericolosa situazione. Chi mai potrà immaginarsi che la terribile tigre della Malesi è venuta a rifugiarsi qui, disse. Per Giove, sono certo che qui la passeremo liscia. Non parlare così forte, amico, disse Sandokan. Potrebbero udirci, ma devono essere ancora lontani. No, non quanto credi. Prima di entrare nella serra ho veduto due uomini visitare le Iwole a poche centinaia di passi da noi e che vengono a visitare anche questo luogo? Sì, ne sono certo. Giavolo. E se volessero vedere anche qui, dentro la stufa? Non ci faremo prendere tanto facilmente. Ianez abbiamo le nostre armi, quindi possiamo sostenere un assedio. Beh, se per quello non abbiamo nemmeno un biscotto, Sandokan, spero che non ti accontenterai di mangiare della puligine. E poi le pareti della nostra fortezza. Non mi sembrano molto solide. Con un buon colpo di spalla si possono diroccare. Prima che atterrino le pareti ci slanceremo noi all'attacco, disse allora Sandokan che aveva come sempre un'immensa fiducia nella propria audacia e nel proprio valore. Bisognerebbe però procurarci dei viveri. Ne troveremo, Ianez. Ho veduto dei banani e dei pombo crescere intorno a questa serra e noi andremo a saccheggiarli. Quando? Staci. Odo delle voci. Oddio, mi fai venire i brividi. Tieni pronta la carabina e non temere. Ascolta. Al di fuori si udivano delle persone a parlare e avvicinarsi. Le foglie scrosciavano e i sassolini del viale che conduceva alla serra stridevano sotto i piedi dei soldati. Sandokan fece spegnere l'esca, disse a Ianez di non muoversi, poi aprì con precauzione lo sportello di ferro e guardò fuori. La serra era ancora tutta oscura, però attraverso i vetri vide alcune torce brillare in mezzo ai macchioni di banani che crescevano lungo il viale e guardando con maggiore attenzione scorse cinque o sei soldati preceduti da due negri. E che si preparano a visitare la serra? Si chiese con una certa ansietà. Rinchiuse con precauzione lo sportello e raggiunse Ianez nel momento che uno sprazzo di luce illuminava l'interno del piccolo edificio. Vengono, disse al compagno, il quale non osava più respirare. Teniamoci pronti a tutto, Ianez, anche a slanciarci contro quegli importuni. È montata la tua carabina? Sì, oggi è il dito sul grilletto. Benissimo, sguaina anche il Chris. Il drappello entrava allora nella serra, illuminandola completamente. Sandokan, che si teneva presso lo sportello, vide i soldati smuovere i vasi e le sedie visitando tutti gli angoli dello stanzone. Malgrado il suo immenso coraggio, non seppe reprimere un fremito. Se gli inglesi rovistavano in quel modo, era probabile che non sfuggisse ai loro occhi l'ampiezza della stufa. C'era quindi da aspettarsi da un momento all'altro la loro poco gradita visita. Sandokan si affrettò a raggiungere Ianez, il quale si era accovacciato in fondo, semituffato nelle ceneri e nella furicine. Non muoverti, gli sussurrò Sandokan. Forse non ci scopriranno. Taci, disse Ianez. Ascolta. Una voce diceva che quel dannato pirata abbia proprio preso il volo o che si sia inabissato sotto terra, disse un altro soldato. Quell'uomo è capace di tutto, amici miei, disse un terzo. Se vi dico che quel sacripante non è un uomo come noi, ma un figlio di compare Belzebù. Ma io non sono di parere contrario. Varresse riprese la prima voce con un certo tremito, che indicava come il suo proprietario avesse indosso una buona dose di paura. Non l'ho veduto che una sola volta quell'uomo tremendo e mi è bastato. Non era un uomo, ma una vera tigre. E vi dico che ha avuto il coraggio di scagliarsi contro 50 uomini senza che una palla potesse coglierlo. Oddio, tu mi fai paura, Bob, disse un altro soldato. E a chi non farebbe paura? Riprese colui che si chiamava Bob. Io credo che nemmeno Lord Gillon, che si sentirebbe l'animo di affrontare quel figlio dell'inferno. Comunque sia, noi cercheremo di prenderlo. È impossibile che ormai ci sfuga. Il parco è tutto circondato e se vorrà scalare la cinta ci lascerà le ossa. Scommetterai due mesi della mia paga contro due penni che noi lo cattureremo. Beh, gli spiriti non si prendono. Ah, tu sei pazzo, Bob, a crederlo un essere infernale. Forse che i marinai dell'incrociatore, che sconfissero i due praos alla foce del fiumicello, non gli hanno cacciato una palla nel petto. E Lord Gillon, che ebbe la sventura di curare la ferita, asserì o no che la tigra è alla fine un uomo come noi e che dal suo corpo usciva sangue uguale al nostro. Ora, ammetti tu che gli spiriti abbiano del sangue? Oh, no? Ecco, allora quel pirata non è altro che un briccone. Molto audace, molto valoroso, ma sempre un furfante degno del capestro. Che canaglia, mormorò Sandokan. Se non mi trovassi qui dentro ti farei vedere io chi sono. Orsu, riprese la voce di prima. Cerchiamolo o perderemo le mille sterline che Lord James Gillon che ci ha promesso. Qui non vi è, andiamo a cercarlo altrove. Adagio, Bob. Vedo là una stufa monumentale capace di servire e di rifugio a parecchi persone. Mano alle carabine, signori, andiamo a vedere. Vuoi burlarti di noi, camerata? Disse un soldato. Chi vuoi che si vada a nascondere là dentro? Non vi starebbero là dentro nemmeno i pigmei del re d'Abissinia. Andiamo a visitarla, vi dico. Sandokan e Janez si ritrassero più che poterono all'estremità opposta della stufa e si sdragliarono fra la cenera e la fuligine per meglio sfuggire agli sguardi di quei curiosi. Un istante dopo, lo sportello di ferro veniva aperto e una striscia di luce si proiettava nell'interno, insufficiente però per illuminare l'intera stufa. Un soldato introdusse il capo, ma subito dopo lo ritrasse e starnutendo sonoramente. Una mano di furigine, lanciatagli sul viso da Sandokan, lo aveva reso più nero di uno spazzacamino e l'aveva mezzo accecato. Al diavolo che ha avuto l'idea di farmi mettere il naso entro questo magazzino di nerofumo, esclamò l'inglese. Ma che idea ridicola è stata, disse un altro soldato. Noi perdiamo qui del tempo prezioso senza nessun risultato. La tigre della Malesia deve trovarsi nel parco e forse a quest'ora cerca di superare la cinta. Forza, affrettiamoci a uscire, dissero allora tutti. Non sarà qui che guadagneremo le mille sterline promesse dall'Orba. I soldati batterono precipitosamente in ritirata, chiudendo con fracasso la porta della serra. Per alcuni istanti si udirono solo i loro passi e le loro voci, poi più nulla. Il portoghese quando non udì più nulla respirò a lungo. Corpo di centomila spingarde, esclamò. Mi pare di essere vissuto cento anni in soli pochi minuti. Io ormai non davo una piastra della nostra pelle, Sandokan. Per poco che quel soldato si fosse allungato ci scopriva tutti e due. Si potrebbe accendere un cero alla Madonna del Pilar. Non nego che il momento sia stato terribile, rispose Sandokan. Quando ho veduto a soli pochi palmi da me quella testa, ho veduto rosso dinanzi ai miei occhi e non so che mi abbia trattenuto dal far fuoco. Che brutto affare sarebbe stato. Già, ora però non avremo più nulla da temere. Continueranno le loro ricerche nel parco e poi finiranno col persuadersi che noi qua non ci siamo più. E quando è che ce ne andremo? Non avrei certamente l'idea di rimanere qui qualche settimana. Pensa che i praos possono ormai essere giunti alla foce del fiumicello e no? Non ho alcuna intenzione di fermarmi qui, tanto più che i viveri non abbonderanno. Aspettiamo che la sorveglianza degli inglesi si rallenti un po' e vedrai che poi prenderemo il volo. Anch'io ho un vivissimo desiderio di sapere se i nostri uomini sono giunti, poiché senza il loro concorso non sarà possibile per noi rapire la mia Marianna. Sandokan mio, andiamo a vedere se vi è qualche cosa da porre sotto i denti? Che ne dici? O bagnare la gola? Usciamo, Janetz. Il portoghese, che si sentiva soffocare entro quella stufa fuliginosa, spinse innanzi la carabina, poi strisciò fino allo sportello saltando lestamente su di un vaso che era vicino onde non lasciare al suolo tracce della fuligine. Sandokan imitò quella prudente manovra e balzando di vaso in vaso giunsero infine alla porta della serra. Si vede nessuno, disse? Tutto è oscuro all'esterno. Allora andiamo a saccheggiare i banani. Si spinsero fino ai macchioni che crescevano lungo il viale e trovati alcuni banani e dei pombo fecero un'ampia provvista onde calmare gli stiracchiamenti dello stomaco e gli uri della sete. Stavano per ritornare nella serra quando Sandokan si arrestò dicendo aspettami qui, Janetz. Voglio andare a vedere dove sono i soldati. Ma è un'imprudenza quella che vuoi commettere, rispose il portoghese. Lascia che cerchino dove vogliono. Che cosa importa a noi ormai di loro? Ho un progetto in testa. Ma il diavolo il tuo progetto? Per questa notte non si può più far nulla. E chi lo sa, rispose Sandokan. Forse noi possiamo andarcene senza aspettare il domani. D'altronde Janetz la mia assenza sarà breve. Forse a Janetz la carabina, afferrò il suo Chris e si allontanò silenziosamente tenendosi sotto la fosca ombra dei macchioni. Giunto presso l'ultimo gruppo di banani, scorse a grande distanza alcune torce che si dirigevano verso la cinta. Pare che si allontanino, mormorò. Vediamo cosa succede nella palazzina di Lord James. Se potessi vedere sia pure per un istante la mia fanciulla. Me ne andrei di qui più tranquillo. Soffocò un respiro e si diresse verso il viale procurando di tenersi al riparo dei tronchi degli alberi e dei cespugli. Giunto in vista della palazzina si fermò sotto una macchia di mangi e guardò. Il suo cuore sussultò vedendo la finestra di Marianna illuminata. Se potessi rapirla, mormorò fissando ardentemente il lume che brillava attraverso l'inferiata. Fece ancora tre o quattro passi tenendosi curvo al suolo onde non farsi scoprire da qualche soldato che poteva trovarsi imboscato in quei dintorni e poi si arrestò nuovamente. Aveva scorto un'ombra a passare dinanzi al lume e l'era sembrata quella della sua fanciulla amata. Stava per slanciarsi innanzi quando abbassando gli sguardi vide una forma umana ferma dinanzi alla porta della palazzina. Era una sentinella che stava appoggiata alla sua carabina. Che mi abbia scorto, si chiese allora a Sandokan. La sua esitazione durò un solo istante. Aveva ancora veduto l'ombra della fanciulla ripassare dietro l'inferiata. Senza badare al pericolo si slanciò innanzi e aveva fatti appena dieci passi. Quando vide la sentinella imbracciare rapidamente la carabina, chi vive? gridò. E a quel punto Sandokan si arrestò.